Sono felice e orgogliosa di avere nel nostro staff Camilla. Cheer Food significa Cooperativa Italiana di Ristorazione ed è un'azienda che opera in Italia e all'estero, composta da circa 13.000 dipendenti. Lavora sia nel settore della ristorazione collettiva, quindi per la ristorazione scolastica, socio-sanitaria per le aziende, sia nella ristorazione commerciale. Il Service Eglios, dove lavora Camilla, è un centro cottura, che lavora sia come pubblico esercizio, quindi abbiamo un service aperto al pubblico e poi produciamo dei pasti in asporto, quindi per dei clienti dislocati nella zona, sia delle aziende, le scuole del comune di Suzara e gli anziani domiciliari di Suzara e comuni limitrofi. Camilla effettivamente è con noi dal novembre del 2016, ma alcuni anni prima è stata con noi come tirocinante e quindi ha avuto modo di perfezionare il lavoro. Ha il compito di scaricare i vassoi che vengono depositati dai clienti nei carrelli e inoltre deve anche pulire la sala e riassettare l'angolo condimenti dove i clienti si fermano a condire le proprie pietanze. È migliorata dall'inizio del suo percorso lavorativo in quanto è diventata autonoma, si potrebbe definirla una proactive, nel senso che riesce a eseguire il suo lavoro in maniera autonoma senza dover aspettare che qualcuno le dia degli ordini da eseguire. E questo ci rende molto orgogliosi perché sappiamo il disagio che ha provato a venire nella nostra azienda dove è a contatto con il pubblico. Camilla quando arriva qui al lavoro per prima cosa si occupa del disbrigo, del svuotamento dei vassoi e dei piatti dei clienti che hanno mangiato, poi dopo sistema la sala lavanderia, dopodiché viene in cucina e si occupa dei fiuti, del differenziato, mi fa la raccolta della plastica, mi divide la carta, l'umido eccetera eccetera. Poi quando le rimane un po' di tempo mi fa spesse volte delle cosette in cucina che io non riesco a fare come per esempio mi pulisce il rosmarino, mi pulisce le cipolle, mi fa l'aglio e mi dà una mano in queste cose molto brave, molto veloce. Camilla è una ragazza solare, semplice, sempre sorridente ed è una nota di merito perché essendo a contatto con il pubblico la gente apprezza il suo sorriso e la sua semplicità. Grazie a tutti.